Dopo la diffusione della circolare denuncia con la quale la direzione dell'Asla ha richiamato quattro operatori sanitari degli ospedali di Venere di Bari e fa la cara di Trigiano a non presentarsi al lavoro in stato di ebrezza, è stato il presidente dei Lopi Bari ad insorgere. Per Saverio Andreula il comportamento adottato dal direttore del presidio ospedaliero Bari Sud, Alessandro Sansonetti, non è consono ad un dirigente medico. Il riferimento al mancato rispetto della legge con le sanzioni non combinate agli eventuali trasgressori, alle responsabilità non accertate e all'ingiustificato allarmismo che inevitabilmente danneggia un'intera categoria di professionisti che lavora al servizio della comunità. Per legge cosa avrebbe dovuto fare il dirigente medico? Il dirigente medico è tenuto ad aprire un fascicolo disciplinare laddove è a conoscenza di fatti disdicevoli all'esercizio professionale, poiché mette a repentaglio un sanitario, ripeto, ubriaco che si presenta al lavoro, mette a repentaglio la vita del cittadino. Sparare nel mucchio, fare ipotesi, fare una circolare in cui si chiede di sapere se ci sono infermieri o medici ubriachi, è un qualcosa di assurdo. E' chiaro che i cittadini nell'immaginario collettivo a fronte di una notizia del genere hanno sempre meno fiducia dell'assurdo ospedaliera. La dinuncia che riguarda quattro operatori sanitari è stata mossa con la circolare dal direttore del presidio ospedaliero Bari Sud, Alessandro Sansonetti. Nello specifico, secondo quanto dichiarato dal dirigente, si sarebbero susseguite segnalazioni di medici e pazienti con riferimento allo stato di ebrezza di quattro professionisti sanitari dipendenti dell'ASL. Si sarebbero presentati ubriachi tra le corsie e in servizio sulle ambulanze. Ma non si parla né di fonti né di irresponsabilità o di sanzioni cominate nei confronti dei trasgressori. Il presidente di Lopi Bari per questo ha auspicato azioni da intraprendere nei confronti di chi ha procurato allarmismo. Ed è veramente strano che un direttore generale di una ASL non censuri il comportamento di un sanitario che ha creato un allarmismo ingiustificato. Io mi auguro veramente che il direttore generale, persona competente, assuma dei provvedimenti ma anche di natura disciplinare nei confronti di questo sanitario che ha creato un allarme impressionante e che ha messo in difficoltà nell'immaginario collettivo la professionalità di infermieri e medici.